Quando si parlava della Ferragna per me era un miraggio, perché comunque vedevamo sempre perché magari anche persone che avevano bisogno proprio di lavorare non erano mai le prescelte dall'ufficio di collocamento, cioè c'era purtroppo questa cosa qua che non venivi mai chiamata anche perché c'erano altre prima di te, non che non ci fosse lavoro, c'era ma è una storia un po' così. Non arrivava mai nessuna chiamata e per fortuna, è stata una combinazione non so, vicino a me abitava un direttore della Cochitalia che ci trovevamo sempre nel negozio lì vicino e lui mi trattava come una bambina ovviamente, diciamo cosa fai a casa, non è che vorresti andare magari a lavorare a Ferragna? Mi piacerebbe senz'altro, solo che dall'ufficio di collocamento non ricevo mai nessuna chiamata. Niente, ha preso i miei dati e ha voluto sapere come mi chiamo e praticamente dopo due giorni c'era già un guardiano della Ferragna che veniva a chiamarmi a casa e mi ha detto di presentarmi per la visita medica a Ferragna. Quindi per me è stata una vincita all'otto, diciamo, perché è stato tutto così improvviso e sono stata molto contenta perché allora non è che ci fosse tutto questo gran lavoro in giro, in modo particolare per le donne. Ho fatto la visita, sono entrata poi a lavorare a Ferragna, al reparto G, il primo passo che ho fatto è che mi hanno dato la divisa, scarpe, guanti, un accappatoio bianco e una cuffia. All'inizio quando me l'hanno data sono rimasta scioccata, berretto sono qui e poi delle scarpe pazzesche, la cappa lunga, insomma era una cosa un po' così e poi quando sono entrata con quel buio sono rimasta veramente un po' sì, mi ha fatto un certo effetto, ecco non è che uno ci si abitua subito a una cosa del genere e poi mi hanno presentato al caporeparto che era il signor Ubertone, era un caporeparto di Ferragna e mi ha spiegato un po' che tipo di lavorazione avrei fatto e appunto che avrei lavorato in una sala al buio, in una sala verde e poi mi avrebbero insegnato un po' il lavoro come era e praticamente sarei stata detta alla verifica delle pellicole, cioè controllare se queste pellicole erano tutte, non c'erano falle, non c'erano comette, non c'erano capelli e tutto questo lo facevamo appunto con i guanti per non sciupare la pellicola. Tutta la pellicola passava dalla verifica, cioè arrivava praticamente c'era la stesa che stendevano appunto il materiale, poi passava alla tagliatrice, dopodiché passava in perforazione e per ultimo passava da noi in verifica e si doveva controllare queste bande, allora le chiamavamo così, di pellicola da 600 metri l'una e bisognava appunto passarle con le mani sotto una lente leggermente più chiara della luce dove si lavorava e si vedeva appunto se c'erano dei difetti, se la pellicola era difettosa e niente, dovevamo farlo un tot di queste bande al giorno perché è un lavoro di produzione, le facevamo sopra una macchina manuale, dovevamo mettere la banda su un piatto, poi si passava sotto questa lente e si riavolgeva dall'altra parte, poi se c'era qualche difetto tipo appunto le comete che era facile che ci fossero, le comete sono praticamente dove la stesa non è riuscita a passare sopra alla pellicola bene, rimanevano come delle macchie luminose che bisognava tagliarle in quel caso lì e quindi ridurre la metratura di questa banda e poi segnalare tutte queste cose qui. In un giorno passevamo che ne so cinque o sei scattoloni e che dentro c'erano dieci bande, la pellicola non doveva assolutamente prendere luce di nessun tipo e quindi per spostarci portare anche gli scattoloni che erano poi di latta queste scattole, li dovevamo portare da un lato della stanza sinché si formava tutto l'asse perché era ad assi questa produzione, adesso non mi ricordo bene se era coi numeri, l'asse numero uno o due o che insomma, si metteva da un lato che poi venivano a prenderla per portarla all'imballaggio. Poi spostarle, erano molto pesanti, so che io ad esempio ero magra e me le dovevo mettere appoggiare su un fianco per cercare di reggere bene questo peso. Poi alla fine di questo si faceva poi un rapportino, un rapporto, c'era la caposala e vedeva e dovevamo aver fatto un tot di questo lavoro che poteva essere in base, se la pellicola era tutta a posto, che andava bene, ovviamente si poteva fare un tot di produzione, se no ci si stava di più e dovevamo descrivere tutto su questo rapporto che poi leggeva la caposala. Bene eravamo trattate, un po' l'ultimo dico la verità che avevano la pretesa che facessimo sempre più produzione, sempre più produzione e mandavano ultimamente addirittura un impiegato e era Occhi, magari voi lo conoscete, e che veniva a controllare sempre con un accumulatore senza farlo sapere che c'era, se c'era qualcuna appoggiata che dormiva o se faceva queste cose. Questo me lo ricordo benissimo perché questa persona l'abbiamo odiata, però lui l'ha mandato, non è che l'ha fatto di sua iniziativa, perché a volte capitava che quando si andava a lavorare alle 6, un po' di sonnolenza, magari ti appoggiavi sopra la macchina a 2 minuti, ma non è che facevamo la produzione minore solo per quello, però loro volevano che noi ne facessimo di più, allora controllavano se perdevamo del tempo a fare delle cose. C'erano una decina di macchine, appunto di verifiche, si chiamavano le verifiche e eravamo tutte ragazze, tutte ragazze che tra l'altro, devo dire, era anche bello lavorare così insieme, ci si aiutava molto perché c'era quel giorno, perché era un lavoro abbastanza pesante e quando appunto qualcuno rimaneva un po' indietro perché era stanco oppure per qualche altro motivo non si sentiva bene, ci si aiutava sempre una con l'altra, cioè quella che finiva prima faceva anche il lavoro tuo, questa era una cosa molto bella, perché lavorare anche tante ore al buio così non è molto piacevole. C'erano delle donne magari che erano incinte o che non le lasciavano più lì e le mandavano a luce bianca in altri reparti, perché comunque non avrebbe fatto bene in gravidanza stare in quel posto lì. E poi la cosa bella, appunto, riferendomi anche alla storia delle donne in generale che lavorano lì, era bello perché alla fine della serata, della giornata, ci si trovava tutto in uno stanzino che era a luce naturale, a luce bianca e allora lì ci si aiutava, ci si pettinava, ci si truccava per poi uscire bene insomma, per andare, per uscire fuori in ordine, eravamo proprio tutte prese da questa letta, si era molto giovani e quindi era un periodo è stato bello, intanto perché eravamo tante ragazze tutte insieme, per cui non si aveva il problema della famiglia, dei figli, per cui si vedeva un po' tutto come, non lo so, o come ti vesti o come vai, andiamo in mensa, cioè eravamo un po' così, diciamo, a quell'età lì, ecco. Non per essere superficiali, ma hai visto quello, hai visto l'altro, capitava di vedere i ragazzi, era divertente anche stare insieme, quindi sul lavoro lo stesso c'era molto, eravamo molto legate e poi si conosceva anche molta gente, non è che finiva tutto lì nella sala della verifica, si conosceva molte persone in refettorio, in mensa quando si usciva, è stato un bel periodo. Oltre alla tristezza, ancora adesso quando passo che vedo questo deserto, tutti questi immobili, tutti faticenti, la cosa mi mette angoscia, soprattutto anche per i giovani, perché in Val Bormida tanti erano occupati lì a Ferragna, molte ragazze, ma anche molti ragazzi, molti giovani e queste persone purtroppo anche recentemente, parlo di qualche anno fa, 4-5 anni fa, che poi li hanno messi in cassa integrazione, hanno cercato di tenere duro fino alla fine, poi alla fine non hanno più tenuto niente, hanno deciso di chiuderla e l'hanno chiusa, adesso non so neanche che tipo di lavorazione ci facciano dentro, c'è qualcosa aperto, ma non c'entra niente con la Ferragna, ecco saranno imprese o l'indotto.